Ciao ragazzi, ciao! Oh, grazie, va! Ehi, che si vede, grazie! Ciao, ciao! Facciamo una cosa insieme oggi, va bene? Ok! Usiamo questo qui, un lucchetto, ok? Mi controlli un lucchetto per qualsiasi? Ok! Se un altro lucchetto me lo controlla lei! Una barra, ok? Questa me la controlla lui! Una barra, facciamo sentita, me la controlla lei! Allora, ho chiesto un sacco e una barra! Una pedana, varie pedane, ok? Chiudiamo? E' il sacco! A questo punto mi serviranno, facciamo questo, mi servirà un assistente, mi aiuta un attimo lui il sacco, tu dovrai legare, far passare la barra dentro gli anelli, va bene? In modo che mi chiuderai dentro! Fatto questo, metterai un lucchetto e poi un altro lucchetto! Chiudiamo? Quindi io metto dentro un sacco, fatto questo chiuso, poi dovrai mettere qui le coperture, Vado nel sacco, attenzione, cameraman, seguimi! Entro nel sacco! Quindi, chiudi tutti quanti gli anelli e fai passare dentro la barra! Chi ha il lucchetto gentilmente, chi ha il lucchetto? Porta il lucchetto qui, grazie! Da una parte per il lucchetto, dall'altra parte per la barra! Ok, mi raccomando che passi in tutti gli occhielli eh, nessuno cielo deve essere lasciato poi! Dove essere completamente chiuso nel sacco! Non devo avere i piedi di fuga! Un'unica via di fuga, l'apertura in alto deve essere sigillato! I blocchi da barra, non posso curare fuori! E un lucchetto dall'altra parte! Le chiavi, sfida le chiavi e mettile al centro! Dalle a qualcuno, in modo che siano sempre visibili! Tutti i guanti li vedranno e stanno sempre sotto mano! Il sacco è ben chiuso? Camera, controllami che il sacco sia ben chiuso! Fai vedere che è chiuso, sigillato! Ogni apertura è bloccato! Tu che mi hai aiutato, prendi un cartone per cortesia, portalo qui e metterlo qui a copertura! Ora, se non sta a spiegare? Non, 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 ma non! Non si vuole, perchetto in mare, non! Non, ma non e, non! Non, non è un'altra parte, non, ma non è un podcast, non ho i piacinieri di un esame. Non, non è un'altra parte, non è un'altra parte. Non, non è un'altra parte, non è un'altra parte. Controllare il sacco, l'apertura, la barra, i lucchetti, 100 metri tutti quanti.